Parliamo di InkChat, il telefonino di InkMobile presentato ieri alla stampa della stessa H3G arriva in Italia, primo paese in assoluto ad avere appunto questo telefonino un telefonino che ricalca diciamo le gesta del precedente InkOne questo è già un telefonino acceso da una giornata vedete anche l'email in attesa, un'email di Gmail infatti il portale di Google per quanto riguarda la posta elettronica viene gestito in funzionalità push ovvero quando arriva un'email sul server il vostro InkChat vi segnala subito la presenza di un'email perché appunto è sempre connesso in rete lo si vede qua che è già connesso in rete insieme a tutti gli altri widget c'è un carosello come InkOne a Skype qui vedete i contatti direttamente in linea ha tutte le altre funzionalità da Facebook, quella nuova di Twitter che è molto carina ovviamente paga un po' in velocità perché il caricamento di questa applicazione rispetto ad altri applicativi su terminali più evoluti come iPhone può sembrare più letto ma comunque è sicuramente piacevole qui si riesce a vedere i messaggi in home e poi quelli che ovviamente vengono mandati alla vostra attenzione o non manca solo questo appunto abbiamo già visto Facebook abbiamo poi tre internet ovvero il browser dove si può appunto navigare nei siti mobili e non solo poi ci sono altre funzionalità il consueto Pianeta 3 poi c'è InkHub che è semplicemente il luogo dove si potrà trovare in futuro gli aggiornamenti di questo telefonino quindi in questo momento si sta aprendendo la pagina sicuramente non arriverà assolutamente nulla è proprio nuovo e quindi nessuna applicazione ha ad oggi un aggiornamento da segnalare andando avanti qui si esce comunque dal browser perché apre una pagina specifica si vedono le altre funzionalità Messenger e tutte quelle altre possibili immaginabili che si possono mettere ci sono alcune piccole scorciatoie per la musica, le suonerie e la tv di 3 che si vede piuttosto bene seppur in streaming e poi ovviamente anche per le pagine dello sport ultima annotazione, la scatola è anche in questo caso come per InkOne è artistica, ha un'immagine molto carina in copertina e al suo interno dispone come sempre della mancanza, anzi del cd che non serve installare niente e si trova all'interno della confezione tutto quello che serve la batteria che è stata già tolta come vedete perché il telefonino è già in funzione e poi ovviamente le scatole che riguardano i caricabatterie le cuffie e ovviamente quella più piccola della batteria che è già all'interno del nostro InkChat questo è il reto